Ben ritrovati, un nuovo appuntamento con il TG Targato Star Casino Sport. I fatti principali di questo lunedì ci portano a parlare di calcio a mercato, iniziando dall'Inter di Simone Inzaghi. Un precampionato non eccelso, anche per via di qualche sbavotura di troppo da parte della difesa. Ed è proprio il difensore Milan-Skrignar che nelle prossime ore potrebbe essere oggetto di desiderio del Paris Saint-Germain nuovamente. Dopo i contatti già avvenuti qualche settimana fa a Londra, il difensore potrebbe nelle prossime ore ricevere l'offerta concreta da parte dei transalpini. Ci sarà un rilancio da parte del Paris Saint-Germain in attesa chiaramente di ulteriori sviluppi. Al momento il difensore opta per il non rinnovo in casa Inter e questo è un fattore discriminante anche per il suo futuro. Intanto il campionato chiama perché tra una settimana il debutto contro il Lecce. A proposito però il Milan invece, in vista di quella che sarà la sfida di campionato che aprirà la stagione 2022-2023, c'è attesa per capire le reali condizioni di Sandro Tonali e di Messias. In particolar modo per quel che riguarda il centrocampista perché potrebbe trasformarsi in una sorta di mini-emergenza per Stefano Pioli in questo avvio di campionato, dovesse mancare per diverse settimane l'ex centrocampista del Brescia. I tempi al momento stimati intorno ai 20 giorni da capire realmente però quella che sarà l'entità del problema per il centrocampista per capire con chi farà coppia a Ben Asser eventualmente e attendendo anche di capire se De Ketelar sarà protagonista dal primo minuto o verosimilmente in corso d'opera sul primo match che le Milan andrà a disputare contro l'Udinese. Dal Milan però alla Juventus perché l'ultimo match disputato dai bianconeri in questo precampionato porta in dote una sonora sconfitta contro l'Atletico Madrid, un KO che pesa per come è arrivato anche per chi ha sconfitto i bianconeri ovvero Alvaro Morata, una prestazione super da parte dell'ex attaccante proprio della Juventus al centro delle trattative di mercato. I bianconeri o per meglio dire Massimiliano Allegri vorrebbero puntare ancora una volta sullo spagnolo l'Atletico Madrid però è stato chiaro, basta prestiti e in questo momento anche la cessione potrebbe essere bloccata da parte del Ciolo Simeone dopo l'ottima prestazione proprio alla Continassa. La Juventus che però nelle prossime ore vedrà un arrivo a Torino, quello di Costice perché l'Aintracht di Francoforte ha trovato fondamentalmente l'intesa con la Juventus limati quasi gli ultimi dettagli, il gap tra domanda e offerta ormai si è praticamente limato e dunque andrà a Dama questa trattativa di mercato. Volando invece nella capitale per concludere il nostro appuntamento, il nostro primo appuntamento le due romane sorridono, sorride la Lazio perché nella mattinata odierna le visite mediche di Provedel Maurizio Sarri abbraccia un nuovo innesto di questa campagna estiva di calcio mercato con una squadra ed una rosa ancora da perfezionare ma alcuni innesti comunque stanno già dando il proprio contributo l'ultimo in ordine di tempo sarà proprio l'estremo difensore dopo Maximiano in questa particolare estate che ha visto a Roma soprattutto la formazione però dello Special One protagonista, assoluta protagonista all'Olimpico nella serata di ieri nella vittoria contro lo Shakhtar per 5-0, ottima l'apprezzazione di tutti gli uomini scesi in campo, la presentazione ufficiale tra l'altro della rosa davanti a 65.000 persone all'Olimpico è stato puro spettacolo, gli ultimi ad entrare in campo il capitano Pellegrini insieme al condottiero di questa squadra ovvero lo Special One a Mourinho, buona la prova di tutti i nuovi interpreti di questa nuova stagione l'ovazione per Paolo Di Bala, l'ovazione per Vainaldum, è una Roma che step by step sta terminando e sta mettendo a punto anche le cessioni che Tiago Pinto voleva fare quest'estate per poi concludere l'ultimo colpo, quello relativo al Gallo Belotti, verosimilmente l'ultimo sarà la pedina in più per far rifiatare Temi e Brama nel corso dell'intera stagione è davvero tutto, grazie per averci seguito, al prossimo appuntamento con Star Casino Sport Grazie per averci seguito, grazie per averci seguito, grazie per averci seguito